Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Intanto Nia io ti saluto, non sono come panni che non ti saluto Almeno io faccio questo sforzo E guardate adesso, dove è andato quel coglione di prima? Sì, vai Combatti, in teoria dovrebbe essere più resistente ora Boom, boom, boom Sono 6 e ma? Siamo Vedete la lava qui? Ma che cosa è successo qua? Ma dove siamo scusa? Ehm... Ah, no, 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 no! Tu clicker Ne è stato clicker dopo passamelo grazie Slash ss andri Non lo voglio controllare Vi voglio soltanto dire che Andri Comunque non scetto Fidati di me Non uso autoclicker Che cazzo Pazzurro Martii A feel good Mati 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 E' un micollone Sentiamo che cosa dice Bella maico e sono 4 mesi Conte minore di 3 comunque hai una cosa Sulla mano E' davvero guardato l'userit tv b maico 09 Ci metto 0 Che ridere così almeno Easy Il resto lo lascio lì nella cesta che se lo perdo sclero Dio santo Rido Ma che cosa ridi? Ma che cosa ridi? Che cazzo ridi? Stronza Che cazzo Che cazzo Stronza Stronza Non vedo Un milione e sei Ce la faremo Però non mi fa Ti sta aiutando Ci sta aiutando Un milione e cinque Cazzo cazzo Non mi fa danno però Ha un milione di vita Ma tu sei un cidre Tu sei andando la sua armatura E' ovvio che non ti fa danno Dov'è? Dov'è? Massalo 900 900k Ma è meglio no? Si bro Si E' andato Timing perfetto Ma è vero Non stanno ti in mano Non stanno ti in mano Si invece Guarda come ti Guarda come ti Guarda come ti Ma no E io li pullappo Li pullappo la mamma Scappi scappi No adesso li riporto Adesso li riporto Per Timing Qualcuno Nexus Se sei live Per favore Crippa sta cosa Che devo riportargiela Al forum Uno l'abbiamo pullappato E' perfetto zi Tra mega Sos Ha recuperato vita Che sito sto utilizzando Sti cazzi E la gente viene alla mano Per settare Il modpack Ma io lo Sti cazzi Allora ragazzi Io mo ho comprato Oddio però aspetta Fermate 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 Che prima ho aperto la pagina Si vedeva tutto L'indirizzo di casa E tutto Fermate Vabbè ma si trovi Bombacarta sotto casa Che cazzo è l'altro Stai in base nostra Ma no Impossibile Impossibile che stai in base nostra Ok E' in base nostra Sto rimasto Già sto chatto Verso le Le nove Verso le 21 Va bene Verso le 21 Dice Oh quel giallo qua Lo picchiamo da dietro Si Ma è milfona Oh vieni Mamma di pole No 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 No